raggiungeremo i 100k bitcoin imbrigliato in quella che è una super barra di congestione si è riavvicinato ai massimi ma questa settimana di nuovo sta stornando riportandosi sui livelli di equilibrio della scorsa settimana dopo un breakout che potrebbe addirittura fallire proprio in questa settimana in realtà ho già fatto le mie considerazioni nel video di lunedì andatelo a vedere dove dico che era accettabile un atteggiamento del genere anzi preferibile addirittura fino alla prossima settimana almeno però la domanda resta spontanea riusciremo a raggiungere i 100k entro la fine del 2024 è una cosa possibile cosa dicono i dati cosa dice l'analisi tecnica la price action del mercato e un po tutto quello che riguarda anche la macroeconomia pronti lancierei la moneta e poi si parte allora 100k si 100k no questa è proprio brutta e invece è uscito si allora la moneta ci dà ragione ragazzi dice che 100k sono raggiungibili ma scherzi a parte adesso andiamo a vedere un po di dati bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video e si parte ovviamente da una serie di grafici per rispondere a questa domanda e se qualcuno l'avesse notato quando io faccio questi video ho gli occhiali da fomo e gli occhiali da bull bull che dovrebbero aiutarci allora analizziamo alcune cose che sono molto importanti tra i quali innanzitutto questo grafico che è quello settimanale secondo me il più importante per fare questo tipo di ragionamenti e poi andremo a vedere anche il grafico annuale perché questo grafico annuale noi lo facciamo ogni anno c'è il grafico della candela dell'anno è proprio l'inizio di quest'anno ho disegnato questi livelli che vedete in sostanza i livelli di resistenza 1 il livello di resistenza 2 che poi è stato anche raggiunto quest'anno e anche i livelli di supporto guardate come in effetti non poi quando le analisi quelle che sono le cosiddette previsioni tra virgolette sono un po più con orizzonti temporali lunghi si vanno a delineare in maniera estremamente più corretta allora partiamo con l'obiettivo di capire se effettivamente è raggiungibile questa soglia dei 100k entro la fine dell'anno dal concetto dei mesi mancanti mancano due mesi e qualche giorno due mesi e sette giorni quindi sono novembre principalmente e poi il mese di dicembre ci sono diversi dati a favore della tesi del raggiungimento dei 100k di bitcoin entro la fine dell'anno il primo dato è quello relativo alle serie storiche del quarter e quindi di quelli che sono i trimestri più sostanziosi per bitcoin ecco infatti quelli che sono i famosi quarter in media e vediamo che in sostanza l'ultimo quadrimestre dell'anno è sempre il più forte per quanto riguarda BTC ed è anche una media importante abbiamo un average dell'81% che però è fortemente dipendente dal questo dato del 2013 quindi se noi iniziamo a tranciare questo dato questa media scende in maniera radicale quindi come vedete ancora una volta è molto impattante i primi anni di bitcoin c'è da dire che anche negli anni precedenti e quindi nelle medie che riguardano per esempio il Q1 anche l'ultimo anno l'anno del 2013 la parte iniziale della coteggio di questa statistica è quello più rilevante quindi se vogliamo raffrontare questi due medie possiamo tranquillamente farlo quindi in linea di massima questo quadrimestre resta abbastanza forte per bitcoin tra le altre cose abbiamo anche un altro dato molto importante il mese è uno dei mesi più forti di bitcoin è da sempre quello di novembre ma non un mese così cioè non è un mese dove quello di novembre è un mese forte in un certo modo no è il più forte di tutti i mesi novembre è sempre il mese più forte di bitcoin a livello statistico dove infatti proceduto solo da ottobre che è abbastanza forte anche questo nelle serie storiche devo dire la verità negli ultimi anni novembre ha deluso un po le aspettative tranne nell'anno 2020 in realtà gli altri anni è stato addirittura molto più rosso che verde però nei primi anni della statistica era molto molto forte è più ottobre che un mese che ha la tendenza ad essere quasi sempre verde rispetto agli altri però poi novembre spara quando spara dei numeri interessanti noi qui abbiamo un 42 53 qui vabbè il solito anno che è stato molto forte quindi la statistica in termini di media per quanto possono essere valide questi tipi di ragionamenti ci porta all'idea che in effetti salire nel q4 non è che sia poi una cosa così tanto strana anche perché nell'anno 2024 in realtà il q2 e il q3 sono stati particolarmente spenti quindi non abbiamo un anno particolarmente sostanzioso in termini di rendimenti è comunque un anno interessante però non è un anno molto forte soprattutto il q1 quello dell'approvazione degli etf è stato molto forte ma gli altri due sono stati molto spenti quindi in linea di massima rispetto per esempio agli anni verdi di bitcoin questo anno 2024 non è così tanto stellare se infatti lo analizziamo anche in base per esempio all'anno 2020 era era stato più forte l'anno 2019 che non hanno anche più o meno verde è stato più forte l'anno 2018 l'anno del bear market no però poi abbiamo gli anni che non sono di bear market quindi 19 il 20 e il 21 per esempio della precedente fase erano tutti anni più forti di questa attuale quindi attendere un eventuale balzo di qualche punto percentuale in più nel q4 non è una cosa così estremo qui punto numero uno e ci siamo arrivati da un punto di vista di analisi delle serie storiche la possibilità di poter salire nel q4 entro la fine dell'anno novembre in particolar modo e anche dicembre sono delle possibilità delle probabilità che statisticamente possiamo accettare con tranquillità calcoliamoci adesso quanto spazio avremo per arrivare ai fatidici 100k e quindi quanto mancherebbe in pratica in termini di costa in termini di oscillazione più o meno faccio riferimento agli attuali prezzi che sono circa 63 e qualcosa in questo momento di 66 qualcosa di bitcoin per arrivare a 100k abbiamo necessità di fare un pump del 50 per cento circa 51 52 punti percentuali questi sarebbero da aggiungere ovviamente al dato statistiche quindi qui avremo un q4 che dovrebbe segnare circa 56 57 per cento entro la fine dell'anno quindi eguagliare più o meno l'anno del 2023 sarebbe comunque più basso dell'anno 2023 però in linea di massima simile all'anno 2023 quindi in sostanza dovessi andare a prendere il grafico in questione dovremmo avere un pump similare alla candela che abbiamo avuto nell'anno 2023 quindi in sostanza dovremmo avere quello che abbiamo visto qui traslato in termini pratici in questa zona ovviamente ci porterebbe intorno ai 100k ovviamente qui è un po di più perché è una percentuale quindi partiamo da un numero più basso qui invece da un numero più alto però linea di massima la stessa tipologia di candela un bel candelone verde che non è da poco sinceramente e ovviamente va tenuto in considerazione va bene detto questo dato andiamo a vedere invece quello che riguarda un po la questione dell'analisi tecnica e poi anzi facciamo una cosa passiamo prima la questione dell'analisi di natura macro a livello macroeconomico il dato più importante da tenere in considerazione per la fine dell'anno e anche i primi mesi dell'anno 2025 è senza ombra di dubbio la questione correlata alla inflazione infatti se noi andiamo a vedere il dato principale è quello che collega in sostanza l'andamento del dollaro perché anche in questo caso l'andamento del dollaro è rilevante se l'inflazione è sotto controllo teoricamente la banca centrale americana potrebbe continuare il abbassamento dei tassi di interesse al di là di quelle che sono già le aspettative gestato scontato non il ribasco dei tassi di interesse e per fare una cosa del genere che spingerebbe da un punto di vista oggettivo quelli che sono i prezzi degli asset reali che sono ovviamente prezzati in dollaro perché in sostanza svaluterebbe il dollaro e quindi in termini anche matematici essendo il dollaro una la parte del denominatore il prezzo dell'asset salirebbe in termini oggettivi andiamo a vedere quello che per esempio è nella funk del mese di dicembre che poi è quello più importante l'andamento che viene stimato per quanto riguarda i ribassi dei tassi di interesse cioè un ribasso ulteriore di addirittura mezzo punto percentuale quindi teoricamente dovremmo avere un'ulteriore fase di bassista abbastanza rilevante per quanto riguarda i tassi di interesse c'è un ma ed è un ma anche molto rilevante se esiste effettivamente questa prospettiva di ribasso dei tassi di interesse perché ci troviamo di fronte a questo tipo di andamento allora l'andamento del dollaro che si è rafforzato in maniera importante nelle ultime settimane e questo è stato anche collegato a rafforzamento dei rendimenti dovuti alle obbligazioni americane che devono essere tenuti in considerazione quindi 28 giorni di rialzo per quanto riguarda la moneta del dollaro probabilmente coincidente anche con la questione delle scelte della politica monetaria della Cina che dovrebbero essere improntate alla svalutazione della moneta in maniera tale da rifinanziare l'economia cinese insomma farla riprendere da un periodo di lunga crisi però in linea di massima dobbiamo tenere in considerazione che il dollaro sta salendo questo significherebbe che o le previsioni legate al ribasso dei tassi di interesse della banca centrale europea e americana sono sbagliate quindi non avverrà un tasso un ribasso così importante oppure vuol dire che ci si ferma qui cioè sostanzialmente che il ribasso di dicembre sarà l'ultimo in pratica e poi ci vorranno sei mesi o il mercato non sta spuntando questa inflazione decisamente in declino quindi pensa che in realtà ci sarà un problema anche nei prossimi anni la questione non è solo legata all'andamento del dollaro come vi dicevo ma è anche legata alla oscillazione dei rendimenti dei titoli di stato americani che hanno ripreso nella stessa identico modo per esempio questo è il ventennale un rialzo rialzo che non è per niente basso perché vi faccio vedere dai minimi ai massimi un più 20 per cento sul rendimento che è salito da circa il 4 per cento al 4 60 per cento quindi cambiando un po le sorti di questo trend laterale ribassista che si era innescato è anche vero che siamo ancora in un trend teoricamente ribassista così strutturato quindi qui potrebbe finire insomma il tutto e ricominciare una gamba per appoggiarsi poi in questa zona dovrebbe essere la sua naturale e suo naturale arrivo proprio verso la prima metà del 2025 quindi il 3 6 per cento di rendimento quindi un ribasso del rendimento del titolo di stato però linea di massima questo rialzo è anche pericolosetto perché stancisce che forse qualcosa non sta andando diciamo nella giusta direzione di quello che i mercati si aspettano a proposito ragazzi vi ne dico una adesso allora se non domani dovesse assistere a una crisi del debito americano quello che ogni tanto si tira fuori e qualcuno dice ma che succede questo debito come si paga d'altronde è preoccupante no sono stato lì proprio pochissimi giorni fa ero in stati uniti in effetti ci hanno un debito assurdo volete sapere che cosa succederà succederà che questo grafico lo vedrete schizzare alle stelle e quindi prima di ogni cota sarà questo grafico che ci darà pericolo 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 quindi occhi puntati allora ragazzi passando a questo tipo di discorso passiamo poi alla fase dell'analisi di natura tecnica allora come abbiamo visto in sostanza la parte che riguarda la macroeconomia ci dice che la svalutazione dei tassi potrebbe avvenire ma che forse stiamo sopravvalutando quello che è la continua svalutazione almeno al momento perché il rialzo del dollaro comunque impattante a questo bitcoin attenzione ragazzi perché bitcoin però è anche salito proprio in questa fase dove il dxy cioè l'indice del dollaro quindi wow no abbiamo avuto un dxy che sale dal 30 di settembre abbiamo un bitcoin che dal 20 30 di settembre fa un trend a rialzo questo trend a rialzo è molto più importante se paragonato a questo rialzo del dollaro perché qui è bitcoin prezzato in dollari quindi vi assicuro che qui c'è una differenza enorme di questo trend rialzista che è piccolo come lo vedete ma molto più forte perché viene da questa roba qui mentre per esempio a giugno quando il dollaro scendeva guardate un po addirittura bitcoin da giugno e poi ha continuato un trend laterale di bassista quindi in sostanza non è a verificare beneficiato della debolezza del dollaro mentre ha beneficiato addirittura di un dollaro forte strano come sono strane volte i collegamenti di queste situazioni però ragionando in entrambi i casi vediamo anche come il l'apprezzamento del dollaro in questo contesto dà maggiore forza anche all'ultimo trend che bitcoin ha analizzato facendocelo percepire come una cosa estremamente più impattante passiamo a quella che è l'analisi e le previsioni diciamo attuali per definire appunto il nostro obiettivo se è fatti più o meno l'arrivo ai 100.000 dollari abbiamo visto che a livello macroeconomico c'è forza anche sul dollaro da parte di bitcoin ma con un dollaro forte difficilmente riusciremo a starire più di tanto quindi o ed x y si ferma qui e inizia una fase di bassista dove bitcoin in pratica poi spinge un po di più oppure dovremmo probabilmente attendere un po di mesi in più a livello di analisi tecnica è molto semplice la situazione veramente molto importante allora qui abbiamo un livello di resistenza che gigantesco che ormai è definito come questo livello la barra la parte alta della barra di congestione che non è più un livello singolo bensì un'area di prezzo che è costruita tra questi due livelli cioè il 69.700 e poi la parte alta a 71.600 quindi 72 tutto questa zona è un'area di resistenza e bitcoin ha necessità di romperlo attenzione perché il tentativo di break di quest'area non avverrà in maniera delicata perché è un'area estremamente importante quindi un touch di bitcoin secondo me in questa zona potrebbe essere impulsivo e indicare un pump importante ora da lì in poi dovessimo andare in area di price action e di price discovery allora tutto è possibile ora facciamo un po il calcolo se effettivamente a livello statistico potrebbe avvenire un rialzo di questa portata ma da un punto di vista di analisi tecnica questo ribasso di questa settimana ci sta ma la settimana prossima possiamo ancora fare un inside non continuare una zona ribassista attenzione quindi non dobbiamo andare a ricoprire i 63 se ritorniamo a 63 diventa tutto molto più complicato dobbiamo restare all'interno di questa candela ma poi già dalla settimana della prima di novembre bisognerà assistere a un mega pump di bitcoin altrimenti a livello dell'analisi tecnica non ci saranno i numeri per poter fare dei rimbalzi importanti a meno di cose estreme che difficilmente vedremo secondo me in questi anni di bitcoin con gli etf e gli istituzionali che hanno preso un po chiede allora in pratica questa fase e il possibile arrivo a 100k dipende da cosa dipende da queste prossime due barra quattro settimane perché in queste due quattro settimane dobbiamo avere necessariamente il primo tentativo di breakout dei massimi storici e di questo livello che deve arrivare entro secondo me la prima legate di novembre oltre la quale ci spostiamo poi in orizzonti un po differenti se però arriva chiediamoci potrebbe essere possibile un rialzo adeguato per fare questa cosa dovremmo andare a ragionare sull'ultimo grafico che vedremo oggi attenzione qui c'è ancora la previsione di plan b che io ho lasciato per sorridere un po tutti insieme intanto cancelliamo spostiamo questo grafico se non lo vediamo allora intanto è importantissimo ragionare su questa questione legata a un andamento delle candele di natura mensile qui si evince il livello di resistenza mensile che è intorno a 67 e 7 ciò già vi dà una soluzione in mese di ottobre non deve chiudere in questo modo deve chiudere in una candela verde che si sposta sulla parte alta quindi noi dobbiamo avere una rottura di questo livello di resistenza che per quanto non sia importantissimo è importante 67 e 5 quindi prima pisaglia chiusura del mese di novembre sopra 67 e 5 deve essere importante e già secondo me poco dobbiamo andare anche su intorno ai 70 sarebbe meglio comunque diciamo che quello è il primo livello poi successivamente novembre deve distruggere in maniera radicale la resistenza a 71 mila e qualcosa 72 che poi è la resistenza principale dopodiché da lì dovremmo o potremmo cercare di raggiungere il nostro target di 100 mila dollari che guardate che è lontanissimo se si ragiona in questo modo anzi vi metto qui il il numerino qui quindi se guardiamo l'analisi tecnica è veramente molto rilevante va bene che questa zona che indicheremo con il verdino cosa significa a livello di estensione che dobbiamo avere un ottobre che chiuda appunto sopra questo livello minimo ma anche il più forte possibile sarebbe meglio arrivasse appunto come dicevo sui settembre poi immaginando una partenza da questa zona dobbiamo avere un novembre che ci va a configurare un più 20 30 per cento minimo di rendimento posizionandosi sugli 87 per poi dare spazio a un dicembre di poter raggiungere il target con un più 14 per cento di rialzo quindi qui in sostanza si gioca tutto sul mese di ottobre come finisce il mese di ottobre più ci avviciniamo ai massimi più la possibilità che novembre faccia questo rialzo è molto più elevata e darebbe la possibilità di raggiungere questo target va bene ragazzi allora morale della favola chiudiamo la questione in toto è raggiungibile la quota di 100k entro dicembre 2024 la risposta è sì perché lo è da un punto di vista sia di statistiche delle serie storiche di bitcoin sia da un punto di vista ciclico sia da un punto di vista macroeconomico abbiamo visto il rapporto dollaro bitcoin come in questo rialzo attuale è stato più forte di quello che si vede dal grafico per via del rialzo del dollaro e sia da un punto di vista di analisi tecnica perché esiste solo un livello di resistenza che può bloccare questo tipo di andamento però bisogna fare le dovute considerazioni primo non sono consigli finanziari in maniera più assoluta lo sapete poi seconda cosa principale l'andamento è tutto dipendente da alcuni fattori sia tecnici che macro macro il dollaro non può continuare ad apprezzarsi così deve fermarsi o iniziare a svalutarsi quindi si deve fermare quella salita del dollaro perché bitcoin deve avere anche un appoggio appunto come dicevo dalla svalutazione del dollaro o dalla perdita di forza attuale del dollaro quindi questo numero uno punto numero due da un punto di vista tecnico dell'analisi dobbiamo assistere ad un ottobre che non è debole la chiusura di ottobre non può essere sotto i livelli di 77 5 almeno valuteremo poi in caso alla fine di ottobre e riprendiamo questo video ma sarebbe consono l'arrivo intorno ai 70 e passa mila dollari se già ottobre spinge su quel livello abbiamo alte alte potenzialità perché novembre ha tutte le carte in regola per rompere il livello di resistenza più importante di bitcoin e spingersi al di là per arrivare a quel famoso target a dire la verità ragazzi poi 100.000 dollari in sostanza è solo un numero perché a noi quello che interessa è che il trend di bitcoin continui chi se ne prega se poi 100.000 non li raggiunge e magari fa 97 lo accetteremo comunque ragazzi non cambierebbe niente però in linea di massima non cambiano le idee di fondo mese di ottobre deve chiudere in maniera più forte di cui prezzi attuali lo può fare con tranquillità novembre a tutte le carte in regola per fare questi nuovi massimi cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti e come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguiremo insieme come una love story questi prossimi mesi per vedere che cosa sta succedendo quindi non perdetevi i prossimi video va bene ciao a tutti